Un commento per Daily Basket, 30 secondi, vai! Una grande partita, per un sospetto contro una squadra, anche come ero molto fortunati, con due lancaccati anche noi, senza tornare a roinarci e bruttini, abbiamo fatto una grande vittoria, adesso abbiamo scorrato queste tre sconfitte consecutive di un punto contro De Bicca, speriamo di essere usciti dal buco che è che c'era la messina.